Ciao a tutti, che difficoltà a svegliarsi al primo gennaio, senta che io sono a Piacenza da amici, se c'è qualcuno di Piacenza lo saluto, vabbè ma saluto tutti, sono orribile stamattina, i miei amici sono tutti morti dentro, hanno tirato fuori dei biscotti, non bastava quello che abbiamo mangiato ieri e quindi niente, io sono qua a fare i vlog, che cosa trash, mi sento uno youtuber orribile, però ho pensato, vabbè dai non faccio uscire il mio video normale, perché non ho ancora augurato gli auguri di buon anno e quindi ve li faccio, e quindi so che molti di voi, alcuni magari sono già arzilli, altri invece sono morti a letto, quindi ho detto video di un minuto e via per augurarvi un buon anno e un felice 2017, sperando che escano libri trash da poter recensire, ma anche libri belli belli diciamo. Comunque, veramente, la mia teoria del esco come David Beckham, nel senso di stile, tutto infigliettato, avete visto la mia foto su Instagram, sarei confermata con torno come Richard Benson, perché oggi mi sento un po' deperito, sciatto, non lo so, ho ancora voglia del letto, però devo agire, devo agire assolutamente. Tra l'altro di libri ho dimenticato Harry Potter a casa e quindi ho portato sorvegliare e punire di Michel Foucault, che insomma in queste condizioni non è esattamente la lettura più adeguata, però mentre i miei amici sono collassati sul divano, mi sa che mi leggerò due pagine di Foucault e ammirerò il tramonto che già si vede, perché sono le, non lo so neanche che ore sono, sono le quattro, che difficoltà esistere. Va bene, io vi saluto, un bacione, parlavano anche di tirar fuori l'insalata russa, va bene, io vi mando un bacione e vi saluto, alla prossima, ciao ciao e felice 2017!